La documentazione storica disponibile sulla vita di Gesù, dai Vangeli sinottici riconosciuti dalla Chiesa ai quelli apocrifi di varie fonti, fino agli scritti nascosti in una grotta del mal morto da una sette ebraica coeva Gesù, ecco questa documentazione è un'anima nessun punto. Gesù nasce in Galilea e fuori un piccolo villaggio. In periferia dunque e non in una città come Gerusalemme, sede di grandi poteri con i palazzi dei governatori e il tempio di Salomone. E in periferia rimane dove frequenta gente disprezzata dai benpensanti, pubblici peccatori come erano giudicate allora gli esattori fiscali, i lebrosi, prostitute, veoni, insomma, l'umanità marginale e sofferente di quell'epoca. È in tutta coerenza questo profeta che taglia il tempo della storia in due, prima di Cristo e dopo Cristo, muore su un colletto fuori Gerusalemme. Il monte del cranio cosiddetto è più conosciuto oggi come il calvario. Ecco, nella storia mite e drammatica di questo uomo di periferia, la scelta di stare con gli ultimi è rimasta un richiamo potente nel tempo. Se ne ricorda 1200 anni dopo l'inquietto Francesco d'Assisi in un bosco dove ricostruisce il Natale ed oggi un Papa dallo stesso nome, con il suo accurato sguardo verso gli sfruttati della Terra.